Facciamo intanto in bocca al lupo per la nuova avventura in maglia bianca azzurra e ti chiedo subito le prime sensazioni perché in un quarto d'ora hai dato una bella stabilità al reparto che stava soprattutto sulle palle alte soffrendo la pressione della Viterbese. Sì, non era facile perché sono entrato in un momento critico, loro avevano preso fiducia e stavano continuando ad attaccare, hanno portato su anche i difensori quindi sono contento che siamo riusciti a portare a casa la vittoria e sono felice dei tre punti. Ieri ha detto Auteri in conferenza, Gerardi è pronto perché si è allenato fino a qualche giorno fa con il Vicenza, quindi già ti candidi per una maglia? Io mi metto a disposizione del mister, poi chiaramente lui fare le sue scelte, però sì mi sono sempre allenato quindi non devo recuperare condizioni fisiche o quantomeno ma devo solo essere pronto se il mister mi butta dentro o se mi fa giocare dall'inizio. Difesa 3, chiaramente il marchio di fabbrica di Auteri, quando sei entrato in grosso è stato spostato centro-sinistra, Ianes è rimasto centro-destra e tu hai fatto il perno. Se potessi scegliere tu qual è il tuo ruolo preferito nella difesa 3? Allora io ho sempre giocato braccetto di destra, però quando un difensore deve riuscire a saper fare tutto quindi va benissimo a centrale, a sinistra, dove c'è bisogno. Una domanda una per Gerardi, studio Massimo. Fabio facciamo una domanda al neo arrivato. No, volevo chiedere al ragazzo se si è inserito subito bene gli automatismi del mister, se comunque i ragazzi l'hanno accolto a braccia aperte, se si è trovato bene insomma che domande le posso fare più di queste. No, mi sono trovato molto bene, vengo da una squadra che è un po' vecchiotta, qua a differenza del Vicenza invece sono molto giovani, quindi il gruppo mi ha accolto bene, sono tutti simpatici e sono contento che non c'è una predominanza di qualcuno, è un vero gruppo, sono tutti uno con l'altro senza gruppettini diciamo. Chiedo io l'ultima cosa, cosa ti ha detto Luca Crecco quando so che avete parlato tu e Luca quando dovevi venire a pescare? No, Luca è un bravissimo ragazzo, mi ha detto che è una città meravigliosa, si vede benissimo e poi il mister non lo conosceva quindi mi ha spiegato un po' il centro sportivo queste cose qua e devo dire che ha fatto la differenza per venire perché mi ha convinto che è una piazza davvero bella. Grazie a tutti.